Un modo davvero singolare di degustare un territorio non solo in termini enogastronomici ma anche museale e culturale. È in gir per Fan che anche per l'edizione 2016 ha registrato un record, un crescendo rossiniano potremmo dire di affluenza e di gradevolezza di pubblico che ogni anno si presenta puntualmente al Via. Penso che a quest'ora della sera, della notte potete essere contenti. Sì, assolutamente sì. Primo per il sold out che è stato registrato in questa manifestazione, secondo per aver coniugato degli aspetti veramente importanti della nostra città, quindi enogastronomia con il legame forte col territorio, cultura, siamo in una delle zone simbolo della città di Fano perché è il teatro e perché è dedicato alla fortuna. Quindi due motivazioni molto importanti e una città viva con un concerto che sta vivendo, che è quasi al termine e con tanta gente che si diverte. Questo è un po' l'obiettivo della nostra Proloco e direi che è pienamente raggiunto. La formula è ormai consolidata. La passeggiata degustativa ha dalla sua la forza di una città come Fano che ha tanto da offrire in termini come spunti culturali in una serata ed un territorio circostante che gli permette di imbandire una tavola con i ciòielli di famiglia in bella mostra. Pesce azzurro, tartufo, polenta, paste artigianali, insomma eccellenze in ambito enologico che ben figurano anche a livello mondiale e poi il grande cuore dei volontari che sono il motore senza il quale questa macchina organizzativa targata Proloco non farebbe neanche un metro. La Proloco di Fano mi ha colpito, mi ha meravigliato, insomma tanta gente, una città così piena, così viva, piena in ogni angolo. Io ho girato tutta la città questa sera, veramente tanta gente, ma tanta gente col sorriso, quindi tanta gente soddisfatta e credo che sia un bel brand che la Proloco di Fano abbia messo in campo assieme anche a delle Proloco dell'entroterra, del territorio quindi c'è la volontà di coinvolgere tutto all'entroterra per portare i prodotti del nostro territorio, a farli conoscere ai turisti che arrivano, che si fermano sulla costa per far conoscere la nostra cultura enogastronomica e anche la nostra cultura del territorio provinciale.